Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Manuel Vallicelli è un ex tronista di Uomini e Donne, il famoso dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio. Nelle scorse ore ha lasciato senza parole gli utenti della rete, in quanto è stato ufficializzato attraverso una stories di un suo amico che ha deciso di togliersi la vita. A quanto pare, l'ex volto del programma di Maria De Filippi avrebbe cominciato a stare male dopo la morte della sua amata mamma, morta dopo una lunga malattia. Da quel momento ha iniziato a soffrire di depressione, e secondo le ultime informazioni potrebbe essere stato proprio questo il motivo della sua drastica decisione. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno, ha svelato il suo amico Enrico, aggiungendo che Manuel è quel tipo di ragazzo che fa fatica a essere a esternare i suoi sentimenti. Ciao Manuel, Rip. Si legge a corredo dell'immagine pubblicata sull'account ufficiale di Uomini e Donne a cui è stato affiancato un cuore rosso. Da Giulia De Lellis a Gianni Sperti, da Gemma Galgani a Luca Onestini, Ursula Bennardo, Claudio Sona, personaggi noti del programma che si stanno unendo al pensiero sono numerosi. Segno del bel ricordo che Manuel ha lasciato in ognuno di loro. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto mai nessuno si sarebbe aspettato un simile gesto da parte sua. Ma purtroppo la vita è davvero imprevedibile e ha deciso di compiere un gesto estremo. È stato impossibile non notare, da parte degli utenti della rete, dopo l'annuncio della sua scomparsa, il grido di aiuto di Manuel Vallicelli su Instagram che lasciava presagire che non stesse passando un bel periodo e la sua volontà di volersi allontanare da tutto e da tutti. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di compiere un gesto estremo, ma settimane prima si era lasciato andare ad un amaro sfogo sui social che ha messo i brividi a tutti i fedeli sostenitori del programma, che mai si sarebbero aspettati un risvolto del genere da parte sua. «La solitudine a volte è la miglior compagna» aveva scritto Manuel Vallicelli di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram, manifestando la sua volontà di volersi isolare per trovare conforto nella solitudine. Non fa mai domande inutili e a volte dà delle risposte. Ha poi concluso, per poi compiere il gesto estremo che tutti conosciamo, dopo settimane dalla pubblicazione di questa confidenza, che oggi appare quasi come un presagio di quanto è accaduto. Manuel, ex corteggiatore di Ludovica Valli ed ex tronista, ha deciso di dire addio a questa vita e anche il programma di Maria De Filippi ha voluto porgli il suo omaggio ricordando la bellissima persona che era e i bei ricordi lasciati nel cuore di tutti loro. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.